un saluto a tutti qui da gopippo oggi vi farò vedere cosa ho fatto in giardino perché oggi ci siamo dedicati alla costruzione di panche e tavoli per questo questa estate perché questa estate voglio fare tante grigliate voglio fare voglio invitare tanta gente quindi ho dovuto costruire qualche cosa che possa essere bello perché non farlo abbiamo riciclato vedete questo questo qui è un tavolo che ho fatto che ho comprato levigato se volete vedere il video lo trovate qui sopra con lo stesso tavolo avevo altri progetti in mente ma con lo stesso tavolo l'ho tagliato a metà e ci ho fatto delle panche ma seguite il video perché come vedete sentite che sta facendo roba se volete vedere questo video continuate e mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un mi piace che è molto importante e accendete la campanella perché così sosterrete il canale e aiuterete l'algoritmo di youtube a seguirmi un po di più così possiamo portare molti più contenuti e andare avanti insieme con questi progetti ma vi lascio il video e buona visione un po di più Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.